ciao amici oggi parliamo di un sito veramente ben fatto un sito fantastico un sito di uno chef stellato walter ferretto allora andiamo subito a vederlo l'eleganza di un sito web spesso si può trasformare come si può dire in una difficoltà di utilizzo quindi diciamo che il punto cardine è sempre di trovare una soluzione giusta che ci permetta di comunicare l'identità del cliente nel modo più giusto più opportuno per lui lo vediamo bene in questa che è una delle nostre creazioni più recenti il sito è il sito di un importante chef stellato come immaginerete questo cliente deve mostrare un certo tipo di impostazione verso l'utente vediamolo a fondo il sito come vedete qua è ricco di dettagli che visti nel loro insieme lo rendono molto piacevole durante la navigazione transizioni effetti tutto molto elegante l'impostazione generale è molto aulica bianca vedete sembra quasi vuoto ma gli elementi sono posizionati proprio nel punto giusto aulica bianca vedete